Il consumo degli standard, no? Ce la può spiegare meglio? Sì, sì, perciò sono regolamenti che sono un'abilità quello che è là. Allora oggi abbiamo le social media, abbiamo il broadcasting su televisione, sulla radio. Noi proviamo anche in queste nuove regole incorporare anche queste nuove tecnologie come bonus, come si fa, il unvero misleading advertising perché quello è un elemento soggettivo, non deve ingannare il consumatore. Pensa che questi standard potranno essere un giorno a livello europeo? Non c'è un livello europeo, noi proviamo a fare il nostro meglio, vediamo cosa altri fanno, proviamo a fare il... Aprevista, diciamo un po'... Sì, mille.